Ho fatto un'ottima partita, un partito incredibile, stavo con il match point avanti, lo lucei sicuramente, e sicuramente il sacco ti aiuta molto, necessitas usarlo, che ti ande bene. Lo usé abbastanza bene oggi, mi sembra che lo sapevo abbastanza bene, e al final sono molto contento perché stavo con tre match point seguiti avanti, così è un ottimo partito. Sì, la pelota andrà molto, siamo a 2400 metri, se non erro, quindi devi andare bene, perché la pelota andrà molto e non è facile di tornare, sto giocando bene, mi piace l'altura, e perché non può essere il primo anno di molti di giocare a Quito, perché mi sto incontrando molto bene, sempre gioco in altura, mi piace, ma prima volta così tanto, e mi sto incontrando realmente molto bene.